San Pio da Pietralcina e il Principe degli Angeli. Breve storia di una celeste devozione. Nella vita di padre Pio gli angeli hanno avuto un ruolo preponderante, fra tutto una parte davvero singolare, la ebbe San Michele, al quale era devotissimo. Il santo cercava di trasmettere tale devozione anche ai suoi figli spirituali e penitenti, i quali erano spesso da lui inviati al santuario dell'Arcangelo sul Gargano per espiare le loro colpe. In queste occasioni il padre non mancava di chiedere loro di pregare San Michele per lui, affinché l'umilissimo Principe degli Angeli lo proteggesse dai pericoli spirituali e in particolare dai venti della superbia, come li chiamava. Raccogliamo come tasselli di un mosaico le notizie di questa sua devozione e in pari tempo accogliamo l'invito del padre ad affidare la nostra anima all'Arcangelo Michele, chiedendo la sua potentissima protezione nel nostro peregrinare terreno. La scintilla della vocazione Fin dalla più tenera età, padre Pio aveva sentito la chiamata di Dio, secondo quanto raccontava lui stesso alle figlie spirituali. Fu proprio durante la festa di San Michele a Pietrelcina, mentre ascoltava la predica di Don Giuseppe Orlando sull'Arcangelo, ad avere avvertito la prima aspirazione alla vita religiosa. Molti anni più tardi, in un incontro con Don Orlando, ormai novantenne, ringraziandolo confidò, se sono sacerdote lo devo a te, senti la vocazione mentre ascoltavo la tua predica su San Michele. Prima di intraprendere il noviziato, il giovane Francesco si raccoglieva spessissimo in preghiera dinanzi a una statua di San Michele, forse anche a motivo della celebre visione che ebbe, mentre meditava su come poter realizzare la sua vocazione, con la quale il Signore volle fargli capire che la sua vita religiosa sarebbe stata un interrotto combattimento contro le potenze infernali, come si apprende dal suo epistolario. La compagnia verso il monte La grotta di San Michele, sul Gargano, fu meta di continui pellegrinaggi nel corso dei secoli. Alcuni gruppi di persona partivano regolarmente ogni anno da varie località, i cui abitanti erano particolarmente devoti all'arcangelo, formando le cosiddette compagnie. Il cammino era scandito dalla preghiera dei salmi dell'Ave Maria e era allegrato da vecchi canti e litanie. Alcuni procedevano scalzi, desiderosi di speciali grazie o come segno di gratitudine per grazie già ricevute. All'arrivo, come pure alla partenza, erano accolti o salutati con un festoso e prolungato scampanio. Per giungere al santuario il gruppo dei devoti segue un sentiero speciale chiamato La Costa, che secondo la tradizione fu il medesimo percorso dell'arcangelo come pellegrino per arrivare alla grotta che poi consacrò per sua stessa mano. Il santuario si trova a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo e fu visitato da San Francesco d'Assisi. La sua visita a Monte Sant'Angelo Dopo aver ardentemente desiderato questo pellegrinaggio sulle orme del suo serafico padre San Francesco, il primo luglio 1917, padre Pio si recò personalmente alla celeste basilica di Monte Sant'Angelo. Vi andò assieme ai 14 fratini del seminario minore di cui era direttore spirituale. Come raccontano le testimonianze, partirono alle tre di notte durante il tragitto a piedi. Furono fermati da alcuni carabinieri sospettosi di trovarsi davanti a dei disertori. Dopo alcuni chilometri percorsi a piedi, a causa di un indibolimento di piedi, di forze e di un sudore pericoloso che aveva colpito padre Pio, l'allora superiore padre Paolino decise di farlo salire sul carretto ambulanza per evitare spiacevoli conseguenze. Giunti alla meta, padre Pio indugiò alquanto davanti alla porta cieli, come si legge nell'incisione posta all'ingresso della basilica. Così documenta lo storico Gerardo Leone. Prima della celebrazione della messa si raccolse in preghiera per tre quarti d'ora. Poi iniziò il rito religioso davanti all'altare dell'Arcangelo. Nell'offrire sacrificio nel luogo consacrato a San Michele Arcangelo si commosse profondamente. Dopo la celebrazione si trattenne per altri tre quarti d'ora. Era pallidissimo e tremava per il freddo. Erano tre ore che stava in quella grotta umidissima e gelida. Nella grotta di San Michele, in quel momento di grande intimità spirituale, nella penombra della grotta angelica, padre Pio prese piena coscienza della sua missione religiosa ed ebbe anche il presentimento di quanto il Signore gli stava riservando. Pare che questa fu la sola visita ufficiale di padre Pio all'Arcangelo nella sua grotta, ma stando alla testimonianza dei figli spirituali, ce ne furono un'infinità che egli gli rese per le vie riservate ai mistici. Di frequente ripeteva ai suoi devoti, io alla grotta santa di Monte Sant'Angelo ci vado sempre. San Michele in alto sul corretto. La devozione a San Michele unisce San Pio al suo serafico padre. Come noto, il santo d'Assisi ogni anno prima dell'8 maggio del 29 settembre, date dedicate al culto di San Michele, osservava le quaresime in onore a San Michele, ossia 40 giorni di digiuno, penitenze e preghiera. Fu proprio in una di queste quaresime che sulla Verna ricevette le stimate da un serafino. Diversi commentatori francescani hanno ipotizzato che costui fosse proprio San Michele. Pare che anche padre Pio, come San Francesco, osservasse tali quaresime ed anche lui fu stigmatizzato durante una di queste, il 20 settembre, esattamente il primo giorno della novena a San Michele. Nel momento della stigmatizzazione si trovava nel coro dell'antica chiesa di Santa Maria delle Grazie ed è interessante notare come sulla volta della vecchia chiesetta, in precisa corrispondenza col crocefisso dinanzi al quale ricevette i segni della passione, si è raffigurato proprio il santo arcangelo. Così come si può vedere da alcune foto, un tempo era dedicato a San Michele, lo stesso altare maggiore della chiesetta di San Giovanni Rotondo dove padre Pio celebrava la santa messa. Il principe delle milizie celesti sempre con lui. Stando a diverse testimonianze, padre Pio ammise più volte di essere sempre accompagnato dall'arcangelo San Michele, una volta, per esempio, dopo essersi recata la grotta Daniela Dolce, devota del padre, andò da lui per dirgli che aveva chiesto a San Michele di stargli vicino per sostenerlo nello svolgimento del ministero sacerdotale. Quando lo seppe, il padre bruttamente ribatte «Sta sempre qui». La stessa risposta la diede ad Anita Zanotti di Rimini, parlando del suo rapporto speciale con l'arcangelo. San Michele ha assistito in modo personale diretto padre Pio, aiutandolo ad affrontare le durissime lotte con il demonio che lo impegnarono fin dei primi anni di vita religiosa, guidandolo lungo il cammino della santità e custodendolo indenne in tutte le prove a cui Dio permise che il demonio lo assoggettasse. Una volta il suo frate infermiere, padre Mariano Palladino disse a padre Pio che una mistica l'aveva visto in visione, protetto dall'arcangelo fin da tenere età. Il santo frate udendo queste parole confermò e aggiunse «Guai a me se non ci fosse stato San Michele, a quest'ora avreste visto padre Pio sotto i piedi di Lucifero». Analizzando le tappe fondamentali della vita di San Pio, c'è chi ha notato come molte ricadono proprio nell'arco della quaresima dedicata all'arcangelo dal 14 agosto al 29 settembre, in particolare nel mese di settembre. Il mosaico di San Michele, voluto da San Pio Per la costruzione della chiesa di Santa Maria delle Grazie, padre Pio volle fortemente che fosse usato un blocco di pietra ricavato dalla Sacra Grotta di Monte Sant'Angelo. Inoltre fu per sua diretta volontà che venne realizzato in essa un altare in onore a San Michele. Anche il mosaico, raffigurante l'arcangelo, è del tutto originale, fu realizzato sulle precise indicazioni del padre, il quale volle che la spada di San Michele fosse infilzata proprio nella bocca di Lucifero, dalla quale, nel suo delirante orgoglio, uscirono le bestemmie e le parole di ribellione a Dio. Dispose inoltre che questa rappresentazione avesse come scenario la fossa dei leoni in cui fu gettato il profeta Daniele, salvato proprio dall'angelo del Signore, che chiuse la loro bocca e non permise che gli facessero del male. San Michele, protettore di casa sollievo. Un'ulteriore prova di quanto fosse intensa la devozione di padre Pio per San Michele la si desume anche dal fatto che volle si ponesse una sua immagine sulla torretta di casa sollievo della sofferenza, posizionata alle spalle della statua di San Francesco d'Assisi sul tetto dell'ospedale, ben visibile dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Su di essa fu posto un mosaico realizzato dall'artista svizzero Aurelio Gonzato, riproducente il nobilissimo principe delle milizie angeliche che schiaccia il serpente antico. Sotto si legge la scritta «Micael, ae grotos visitat, San Michele visita i malati». Padre Pio aveva quindi affidato all'arcangelo la cura dei pazienti ricoverati nella sua cattedrale della carità. La preghiera a San Michele dopo la Messa Prima dell'ultima riforma liturgica, al termine della Messa si recitava una preghiera a San Michele. Tale preghiera fu composta da Papa Leone XIII per ispirazione divina dopo una visione avuta al termine della Santa Messa in cui osservò una moltitudine di spiriti infernali addensarsi su Roma con il proposito di distruggere la chiesa. Nonostante le nuove norme, padre Pio, mosso dall'immenso amore per l'arcangelo e per la chiesa, chiese alle autorità ecclesiastiche di continuare a recitarla. Il permesso fu accordato e lui la recitò sempre. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfide e l'insidio del diavolo, tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero, noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. Nella notte del suo beato transito All'inizio del mese di settembre del 1968 venne a San Giovanni Rotondo dagli Stati Uniti il signor Kelly, accompagnato da un amico, per visitare padre Pio. Il giorno 22, come è noto, padre Pio celebrò quella che sarebbe stata la sua ultima messa alla presenza di molti pellegrini giunti in occasione del cinquantesimo anniversario della sua stigmatizzazione e del convegno dei gruppi di preghiera. Ecco un fatto particolare, anche tutto nella notte seguente, trascritto da padre Alessio Parente dopo averlo ascoltato dal protagonista. Il padre apparve stanco e malandato in salute. Alla fine della celebrazione ebbe anche una specie di collasso e sarebbe crollato a terra se non fosse stato subito sostenuto dai confratelli. Per questo il signor Kelly lasciò la chiesa profondamente turbato. Il mattino seguente si alzò alle tre per essere puntuale alla messa del padre che sarebbe dovuta iniziare alle cinque. Egli raggiunse il sagrato antistante alla chiesa dove la folla pazientemente aspettava fuori la porta da tre ore. Poi uno dei frati venne a dire che padre Pio era morto. Solo allora il signor Kelly capì e diede un significato a ciò che aveva visto all'alba. Appena alzato egli aveva notato degli angeli nel cielo. Era corso dal suo amico per fargli vedere. Anche questi li vide nitidamente. Un angelo maestoso sull'ospedale ed uno sulla chiesa con attorno miriadi di angioletti. All'apparire delle prime luci scomparvero tutti. Data la grandiosa missione affidata a padre Pio contro le potenze degli inferi e a pro dei fratelli ammalati, c'è chi ha ipotizzato che con grande probabilità l'angelo su casa sollievo della sofferenza fosse San Raffaele, l'arcangelo medico quello che sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie fosse San Michele, suo inseparabile compagno di vita. Grazie a tutti.